sia di trading con l'indicatore rsi perché facciamo un webinar di questo tipo parlando di strategie perché proprio durante il precedente webinar che abbiamo fatto con enrico ci è stato chiesto esplicitamente in chat di fare di parlare di strategie quindi stasera parliamo di strategie è normale che poi adattiamo anche il percorso formativo a seguito delle vostre richieste siamo qua questa sera proprio per voi così come richiesto quindi su isco.com il nostro sito se volete contattarci avete tutti tutta la possibilità potete contattarci ovunque telefono chat dal sito social qualsiasi email qualsiasi forma telegramma se volete anche su isco offriamo tutti 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 i prodotti oltre 20.000 fondi 9.000 etf 60.000 bond i miei colleghi li contano in totale abbiamo 3 milioni di prodotti semplicemente offriamo anche opzioni future quindi ci sono i vari strike dell'opzione 3 milioni di prodotti sono davvero tantissimi e questa sera ci concentriamo comunque in particolare su su quello che volete voi perché potete anche fare delle domande da casa comunque su una strategia con un indicatore celebrissimo ci concentriamo in particolare sul mercato delle valute e l'indici ok per quanto riguarda il trading su valute e indici tramite i cfd 4 for difference noi offriamo le piattaforme metà 3 del 4 metà 3 del 5 di meta course che sono tra le più diffuse al mondo potete trovare manualmente anche contro di system davvero come volete ma anche con la nostra piattaforma proprietaria la nostra piattaforma proprietaria si chiama advanced trader è disponibile nella versione desktop nella versione mobile quello che avete android ios cellulare pure tablet e la versione web la versione web è personalmente la mia preferita stasera andiamo utilizzare quella però qualsiasi piattaforma utilizzate può andare bene non c'è nessun problema questo è il mio contatto e mail stefano appunto gianti chiocciola su isco.com nel caso vogliate successivamente a questo webinar inviarmi qualsiasi richiesta durante il webinar appunto utilizzate la chat del software quindi questa sera siamo proprio diretti spiegazione impostazione dell'indicatore rsi vediamo velocemente che cos'è ecco molto semplice è uno degli indicatori dell'analisi tecnica davvero più famosi che si trova in tutte le piattaforme esempio in tempo reale con la piattaforma advanced trader web abbiamo diversi vantaggi per fare trading con su isco se non siete ancora nostri clienti non capisco perché non so però nel caso ancora non lo siate c'è la possibilità andando su su isco.com di utilizzare la demo sia la demo per quanto riguarda le piattaforme per tradare i cittadini forex ma anche la versione del trading per avere eccesso a tutti i prodotti azioni obbligazioni etf opzioni future cripto valute chi più ne ha più ne metta il disclaimer ci accompagna sempre in tutti i nostri seminari oppure seminari online come in questo caso mi raccomando quando si fa trading su qualsiasi strumento bisogna sapere che fare trading comporta dei rischi investire nel lungo periodo comporta dei rischi investire nel breve periodo con la leva long short composta dei rischi bisogna assolutamente conoscerli anche per questo motivo facciamo un percorso formativo davvero molto approfondito abbiamo anche a vostra disposizione tutti i canali social questa sera con noi enrico lanati investire punto biz questa è la sua pagina personale davvero scrive un sacco di articoli enrico si beh su ultimamente insomma ho approfondito alcune tematiche interessanti mi sono allontanato in parte dalla trading diciamo quello un po più rapido quindi diciamo quella quell' operatività giornaliera o magari con grafici molto brevi perché mi sono dedicato prevalentemente alla parte di investimenti infatti il primo webinar che abbiamo fatto era dedicato proprio al mercato azionario a investimenti lungo termine in tutto questo però la passione per l'attività di trading diciamo un po più operativa se vogliamo chiamarla così rimane sempre quindi oggi volevo condividere con voi una strategia che mi piace molto ed è legata a l'rsi l'utilizzo la faccio così io faccio vedere anche come sento la piattaforma proprio dall'alanzeta quindi passando per la cfd in alto destra c'è scritto login si clicca su piattaforme forex quindi nel caso fosteggia clienti si va poi sul conto live oppure conto demo nel caso non foste clienti accendere alla versione web live perché in questo caso utilizziamo la versione advanced trader web come vi dicevo che ha i grafici di trading view che a me piacciono davvero moltissimo quindi c'è la possibilità di personalizzare la piattaforma abbiamo anche vari tutorial su questo e magari come prima cosa al volo cosa facciamo prima che ti passo la parola e la condivisione dello del tuo schermo io andrei a far vedere se sei d'accordo enrico come mettere l'indicatore sulla piattaforma quindi avete un grafico qualsiasi che scegliete voi andate su indicatori andate a scrivere il nome dell'indicatore rsd relativa index ci cliccate sopra e poi dopo dopo andiamo a parlare dell'impostazione cosa ne pensi ricco ti condivido il tuo modo vuole condividere il tuo monitor adesso sì se possiamo posso tranquillamente prendermi il monitor quindi lo faccio subito assegna ruolo relatore mostra schermo io vorrei partire da un foglio di paint in modo tale da si vede il mio schermo lo vedete correttamente sono pronto a vedere che tipo di arte no io cerco di farlo sempre su paint perché almeno cerchiamo di spiegare le cose in maniera semplice poi andiamo sul grafico però secondo me questo è il modo migliore per per far vedere questo tipo di strategia allora innanzitutto si tratta di una strategia di tipo trend following ovvero qui cercheremo di individuare quello che è un trend e un trend può essere ipoteticamente al rialzo o al ribasso facciamo l'ipotesi di un trend a rialzo normalmente un trend a rialzo viene disegnato come quello che vi ho indicato in questo momento cosa succede il mercato sale questo è palesemente un trend rialzista perché presenta come da analisi grafica di base sostanzialmente dei massimi e dei minimi rialzisti quindi crescenti se ci fate caso normalmente quando un mercato ha questo tipo di caratteristiche siamo di fronte a un trend rialzista se diciamo il grafico fosse stato di questo tipo quindi magari un grafico molto frastagliato o una cosa diciamo dove non c'è una chiara direzionalità evidentemente ci saremmo in una fase laddove non c'è un chiaro e definito trend questo è molto importante perché se noi vogliamo avere una strategia di tipo trend follower il trend ci deve essere lo obiettivo di questa strategia che cos'è è quello non di andare ovviamente a prendere il minimo assoluto del mercato e chiudere sui massimi assoluti del mercato perché questo ovviamente è impossibile e tra l'altro poi aggiungerei qualche altro disclaimer ma sostanzialmente all'interno di un trend rialzista o ribassista e poi vedremo il caso del trend ribassista che dura normalmente per un periodo di tempo piuttosto lungo quindi da t con zero per intenderci a t con uno sostanzialmente andare a prendere magari una parte centrale all'interno di questo movimento rialzista quindi quando il mercato ha già invertito la sua direzione siamo e possiamo andare a sfruttare quella che è la direzionalità del mercato si dice trend is your friend e proprio in questo caso secondo me è molto importante cercare di andare a individuare questi questi segnali che il mercato ci dà ora io andrei a disegnare nuovamente un trend rialzista poi lo vediamo su quello che è il trend ribassista però lo scopo di questa strategia sostanzialmente in un mercato che si muove in questo modo è cercare di andare ad individuare queste aree ovvero tutte le aree di ritracciamento dalle quali il mercato poi riparte ok questo perché ci sono una serie di ragioni allora innanzitutto bisogna dire bisogna dare delle delle indicazioni di base questa è una strategia che funziona normalmente su indici ovviamente non funziona sempre e questo ci tengo a dirlo su indici e sul fx quindi sui principali cambi quelli che i dati che vi darò io sono dati di carattere come dire generale nel senso che vi darò dei valori di rsi e nello specifico saranno intorno a 40 e 60 poi è evidente che da strumento a strumento questi dati possono cambiare un pochettino quindi magari su un particolare cambio può funzionare con le rsi a 38 62 piuttosto che con le rsi a 41 e 59 o cose di questo tipo quindi dipende molto diciamo l'intorno è quello di 40 e 60 obiettivamente quando si fa trading non possiamo essere dei farmacisti e di conseguenza sono valori che vanno abbastanza bene per tutti quanti gli strumenti poi andando a vedere il grafico nello specifico si riescono ad individuare magari delle dei valori un po più precisi per il singolo strumento ora il tema qual è il tema è che se io voglio operare in un trend rialzista mi aspetto via via dei massimi crescenti ok se voglio andare a posizionarmi su questi punti che ho evidenziato ho un duplice vantaggio il primo è che sto operando in favore di trend il secondo è che probabilmente anche a livello psicologico entrare dopo un ritracciamento mi da eh il vantaggio che da lì il mercato potrebbe ripartire se veramente siamo in un trend rialzista il secondo è che ho la possibilità di andare a inserire uno stop loss stretto proprio perché il ritracciamento in larga parte è già avvenuto e un target price normalmente sopra il massimo precedente quindi più alto e quindi avere dei rapporti rischio rendimento più favorevoli ecco normalmente quando facciamo questo tipo di strategia la mia idea è quella di avere dei rapporti di rischio pari a uno e dei rendimenti diciamo pari a tre volte o due virgola tre volte quindi due e mezzo due e mezzo tre volte rispetto a quello che è il il capitale investito vorrei aggiungere un'altra cosa questo tipo di strategia normalmente eh funziona io la utilizzo con grafici giornalieri quindi un giorno quindi una candele di tipo daily o possiamo scendere anche su quattro ore o eventualmente possiamo scendere anche sul grafico orario non sotto vi dico la verità più si va ad avere un time frame basso più i segnali aumentano ci sono molti più segnali ci sono anche molti più falsi segnali e l'affidabilità appunto della strategia tende a calare in maniera significativa sostanzialmente qui abbiamo un livello di affidabilità abbastanza elevato qui cala un po' ma è comunque buono sul grafico orario l'affidabilità il numero di stop loss per dirla in maniera eh un po' più eh con termini da trader aumentano in maniera significativa quindi diciamo questa è la strategia può essere utilizzato eventualmente anche sul settimanale il problema del grafico settimanale qual è che mentre sul grafico orario avete un sacco di segnali sul grafico settimanale avete due segnali all'anno e quindi di fatto non fate trading e quindi in realtà quel punto poi serve a poco eh andiamo nello specifico e poi dopo ci spostiamo appunto sulla piattaforma ma quello che eh vorrei farvi vedere è eh darvi delle delle indicazioni quindi l'RSI in questo caso ci serve per individuare se siamo di fronte a un trend di tipo rialzista se siamo all'interno di un trend di tipo laterale o se siamo all'interno di un trend ribassista quindi partiamo subito con i nostri livelli abbiamo detto che vogliamo indi vogliamo mettere diciamo l'RSI eh con delle barre delle linee orizzontali meglio chiamarle così tra eh sui livelli appunto di 40 e di 60 se l'RSI oscilla tra un valore che è e poi lo spiego bene però intanto ve li scrivo e ve li faccio vedere tra 0 e 60 siamo in un trend di tipo ribassista ok se la linea dell'RSI oscilla tra 40 ve lo spiego bene però intanto ve lo ve lo segnalo tra 40 e 60 siamo all'interno di un trend laterale e questo sostanzialmente non ci interessa perché se stiamo parlando di strategie trend follower eh di fatto un trend laterale non ci aiuta e non ci fa eh performare troppo bene se siamo invece se abbiamo l'RSI che oscilla tra 40 e 100 ovviamente questi valori si sovrappongono e adesso vi spiego il perché stiamo in un trend di tipo rialzista ok adesso spieghiamo per bene quindi se il nostro RSI adesso poi andiamo all'interno di un di un grafico oscilla tra questi valori prevalentemente quello che vedremo è un trend di tipo ribassista quindi vuol dire che normalmente l'RSI sarà su un valore di 30 35 40 giù di lì a quel punto dovesse arrivare in un area di 60 quello sarebbe il nostro eh livello sul quale possiamo andare a fare il nostro trade al ribasso perché il trend è ribassista come detto se eh l'RSI si muove all'interno di un range tra 40 e 60 sostanzialmente non c'è una direzionalità chiara o quantomeno l'RSI non ci aiuta in questo senso se invece l'RSI viaggia tra 40 e 100 il che vuol dire che è stabilmente sopra 40 sopra 50 è evidente che eh il mercato viene comprato probabilmente i prezzi saliranno e di conseguenza cioè probabilmente i prezzi stanno salendo in questo intervallo temporale e di conseguenza siamo all'interno del trend rialzista e dobbiamo trovare il classico pullback per posizionarsi al rialzo eh Stefano non so se eh è è stato chiaro diciamo come come introduzione di quella che è la strategia se hai qualche domanda ti posso rispondere se no eh possiamo tranquillamente andare su un grafico che così vi faccio vedere operativamente come si va eh partendo dallo storico eh ad inserire eh un tipo di strategia che può essere profittevole appunto nel che poi può essere gestita in mille modi perché la cosa bella è che questa strategia ci dà un livello di ingresso no quindi noi ci mettiamo long e sappiamo più o meno dove dobbiamo arrivare quindi però se noi abbiamo un target su euro dollaro che so 1,13 per intenderci andiamo long il nostro target è a 1,13 sto sto dando diciamo numeri a caso possiamo tranquillamente stoppare parte della posizione in profitto quindi prendere un take profit su metà della posizione e magari cercare di sfruttare eh un ulteriore rialzo qualora appunto euro dollaro dovesse invertire in maniera forte quello che è il nostro trend una cosa molto importante che non vi ho detto è questa che se siamo di fronte a un trend di tipo rialzista e questa strategia dovesse andare in stop vuol dire che probabilmente andrà a segnare dei minimi inferiori a quelli precedenti e quindi potremmo essere nella situazione nella quale vi è un cambio di trend eh diciamo di di medio termine questo è molto importante e fa sì che il fatto di avere una strategia con eh diciamo dei rischi eh legati alla posizione inferiore rispetto a quelli che sono i potenziali rendimenti eh la renda poi nel lungo termine una strategia solida è molto importante questa cosa questo è un tema che spesso non viene affrontato ma sostanzialmente supponiamo di mettere un euro eh lo faccio con numeri semplici perché mi piace cercare di arrivare eh alle persone in maniera molto semplice se io rischio uno per eh ottenere tre di rendimento la cosa interessante è questa supponiamo di fare un trade di perdere un euro supponiamo di fare un secondo trade e di perdere un altro euro ovviamente i tre saranno di entità più grande un terzo trade e perdere un ulteriore euro poi al quarto trade invece faccio un profitto di tre euro questo vuol dire che eh in buona sostanza il la mia operatività va a pari quindi ottiene un risultato pari a zero se eh quello che viene chiamato eh diciamo eh profit factor adesso eh molti lo chiamano in maniera eh in maniera eh in maniera però sostanzialmente se eh diciamo ho ragione nel 25% dei casi quindi una volta su quattro perché qui siamo di fronte a quattro a quattro operazioni se ho ragione una volta su quattro eh la diciamo la 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 mia strategia la mia operatività va a pari se la diciamo la la mia percentuale di profitto passa banalmente al 30 o al 35% eh dei dei trade che vado a fare in piattaforma sostanzialmente eh alla alla lunga sono profittevole ora il tema secondo me è un altro se io diciamo indovino per usare un termine brutto eh la direzione del mercato una volta su quattro vuol dire che probabilmente le analisi che faccio sono sbagliate nel senso che non c'è dubbio che eh dobbiamo eh con questo tipo di strategia o con altre strategie avere delle indicazioni o avere diciamo una non dico di prenderci una volta su due ma quantomeno avvicinarci al 50% per quanto riguarda eh la la profittabilità delle nostre operazioni perché se no vuol dire che non abbiamo individuato la direzione del trend cioè il trend che pensavamo essere rialzista in realtà è ribassista il trend che pensavamo essere ribassista in realtà è rialzista e quindi vuol dire che c'è un problema di fondo alla base ancora più importante quindi la la strategia di fondo qual è eh cercare di avere una profittabilità intorno al 30 40% delle scelte di investimento che andiamo a fare per poter essere poi di fatto profittevoli con eh diciamo dei dei rapporti di rischio eh pari appunto a uno in confronto a tre per quello che è la parte di profitto qui sostanzialmente eh lo dico per me no dico interessante questo quello che dici perché poi hai parlato anche di gestione del rischio tutto sommato finora perché è sempre fondamentale e eh mi piace perché io tante volte dico qua si parla di analisi tecnica no? Stiamo descriveremo già iniziato a descrivere un indicatore molto conosciuto in analisi tecnica a mio avviso è spesso un supporto alle proprie decisioni quindi se io ho una visione rialzista su una valuta un'azione un indice eh magari basati su motivi macroeconomici fondamentali eh prendo posizione magari se poi ho il trade basato sull'analisi tecnica a mio favore ecco quindi questo già può essere un filtro operativo tra eh ma eh analisi fondamentale e analisi di tipo tecnico eh questo è già uno spunto interessante poi mi mi piaceva l'idea che salvi tutti i tuoi paint che hai disegnato finora così poi ci facciamo degli NFT agganciati a questo capolato finora potrebbe essere interessante ma sai che io ho notato adesso ti dico una cosa a me è capita ogni tanto di fare delle coaching così sai che alle persone piace vedere eh disegnata appunto la eh il tipo di strategia proprio perché così diciamo viene viene spiegato in maniera eh semplice no? Allora eh una cosa che ti voglio dire prima di passare ai grafici è questo l'RSI normalmente viene utilizzato con le linee orizzontali a 70 e a 30 ok questo eh chi lo utilizza in maniera convenzionale che cosa dice a a 30 è in iper venduto a 70 eh è in iper comprato cioè sostanzialmente qui stanno comprando tutti per dirla in maniera molto semplice qui stanno vendendo tutti no a noi questo tipo di interpretazione dell'RSI non ci interessa cioè noi andremo a utilizzare l'RSI in maniera completamente differente non ci interessa affatto quello che è eh l'iper comprato l'iper venduto anche se l'RSI indica di fatto questa questa cosa e eh quello che ci interessa sostanzialmente è vedere se eh il mercato sostanzialmente si trova per tanto tempo sopra un determinato livello se poi eh tornando appunto per esempio nell'area di di 40 poi riprende nuovamente una direzionalità mi raccomando è importante non è detto che eh un mercato che ha l'RSI a 65 per intenderci come vediamo in questo livello poi torna a 40 se poi l'RSI dovesse andare che so qui a 55 non è detto che questi che i livelli delle delle candele non siano eh su un livello superiore quindi eh adesso io direi magari di spostarci sulla tua piattaforma prendere per esempio euro dollaro e andiamo a fare un'analisi eh passando che so gli ultimi sei mesi sette mesi di euro dollaro dove c'è stato un trend palesemente ribassista e cerchiamo di fare qualche considerazione insieme quindi siamo passati sulla sulla tua piattaforma che dovremmo dovrebbero vedere tutti quanti in questo momento allora quindi come detto prima andate su indicatori e mettete l'indicatore relati index indice di forza relativo appunto l'RSI e poi e poi e poi e poi è importante come ha detto Enrico in questo contesto di andare nelle impostazioni la piattaforma e anche in italiano in questo caso io c'era l'inglese però poco importa andate nello stile e quindi il limite superiore ok invece di 60 lo andate a mettere qua a 60 e quello inferiore invece di 30 a 40 poi se volete cambiate i colori lo sfondo tutto quello che volete come più vi piace qua c'è lo spessore eccetera eccetera anzi cambiamo e poi cliccate su ok se volete salvare il layout cliccate in alto destra su layout così lo fate una volta e lo salvate per sempre ok quindi salvate il nostro layout layout di tutta la piattaforma qua ovviamente potete andare a cambiare i time frame Enrico ha già parlato di questo aspetto fondamentale è normale che si può usare con la nostra piattaforma si può usare anche un secondo 10 secondi 30 secondi è normale che come ha detto Enrico prima più il time frame è lungo entro certi limiti senza andare sul mensile o sul settimanale ci sono segnali di migliore qualità personalmente a me piace molto sul mercato delle valute il quattro ore quindi magari se sei d'accordo Enrico iniziare da questo sì possiamo iniziare su questo o se vuoi possiamo partire dal big picture quello del grafico giornaliero più che altro per 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 spiegare un pochettino la strategia chi ci segue no quello quello che vorrei farvi vedere in questo senso è farvi vedere per esempio guarda il rsi nel periodo tra il 16 di novembre e l'inizio di dicembre sostanzialmente vedi che nella parte bassa vedi che c'è una rottura importante l'rsi arriva fino a 26 27 no quello è un chiaro segnale che come abbiamo detto in precedenza se l'rsi sta tra 60 e 0 ma soprattutto nella parte bassa quindi verso 0 siamo in un palese trend ribassista ok se ci fai caso vedi che il mercato è sceso in maniera molto molto forte in in quel periodo ok ora ovviamente noi questo non possiamo saperlo questo è un dato che noi acquisiamo come se fosse un dato preso per buono ok quindi a questo punto ci si attiva quello che è il setup della strategia ovvero il setup qual è il trend è ribassista devo trovare un punto di ingresso per posizionarmi al ribasso ok questa è la strategia quindi quelli bravi si sono già messi short nella prima parte hanno preso tutto il movimento al ribasso noi invece vogliamo come detto prima prendere un piccolo movimento ribassista quindi vogliamo prendere il primo movimento ribassista laddove c'è il cosiddetto rimbalzo ok il pullback in questo caso in un trend ribassista e se ci fai caso spesso questo tipo di rimbalzo avviene in un'area prossima ai 60 di rsi qui capita due volte sostanzialmente capita intorno esatto capita qui esatto quello è il primo segnale ok e poi capita immediatamente nella fase successiva esatto capita in quel secondo punto allora quindi qui la nostra strategia si attiva quando si attiva possiamo mettere un allarme o comunque in generale possiamo decidere di monitorare il grafico su quei livelli possiamo decidere di posizionare il nostro ordine short proprio al raggiungimento del 60 di rsi quindi il mercato è sceso siamo in un trend ribassista l'rsi nonostante i prezzi non salgano più di tanto arriva su quell'area interessante lì mi metto short come detto in precedenza posso impostare uno stop breve ok quindi nell'ordine dei 100 pips per intenderci e posso cercare di andare a individuare un target price di almeno due volte due volte e mezzo se ci fai caso è possibile impostare questo tipo di strategie e avremmo potuto gestirla molto bene magari arrivando a target se ci un'altra cosa interessante che puoi notare che il minimo di febbraio quindi di scusami prima della quella quella sorta di candela di inversione che hai di minimo prima che il mercato risalga ancora intorno alla fine di gennaio ecco è un minimo più basso rispetto a quello che hai evidenziato con le due righe blu quindi dove abbiamo avuto il setup quindi abbiamo avuto un minimo inferiore che era dove avremmo dovuto ipoteticamente andare a posizionare il nostro livello di target poi il mercato torna nuovamente a 60 questa è la secondo tipo di strategia intorno all'inizio febbraio qui avremmo potuto nuovamente riposizionarci short con uno stop breve e un target sotto quel minimo precedente faccio vedere Enrico una cosa interessante della piattaforma questa è trading view implementata sulla nostra piattaforma advanced trader web quindi cliccando qua su quest'icona poi andate a selezionare price range o anche sia data che prezzo il range di data prezzo tu quindi parlavi di questo movimento qua quindi giusto per far vedere l'estensione del movimento da questo massimo che ovviamente difficile intercettare il massimo però dato che tu hai parlato di target a questo minimo del 28 gennaio che tu hai citato sono 359,7 pips in 10 barre quindi 10 giorni due settimane di borsa non male facendo la stessa cosa sul movimento successivo qua il rsi come si dice l'italiana ma rsi come si dice a livello internazionale da questo minimo da questo livello fino addirittura poi al minimo qua si parla di un 5 87 per cento quindi 674,2 pips in 21 giorni 21 barre 31 giorni di calendario ma 21 barre quindi movimento è stato davvero notevole ecco ovviamente noi non andremo mai a prendere tutto questo movimento una la cosa bella è sostanzialmente tu probabilmente qui saresti entrato sulla quella candela verde sul primo ingresso sulla candela verde che sta salendo quindi probabilmente poco sopra 1 e 14 e il nostro target l'avresti messo appena sotto il minimo registrato intorno alla fine di gennaio e quindi a due terzi di quel movimento quindi probabilmente le ultime due candele rosse non le avresti prese perché comunque ci vuole anche l'onestà intellettuale di dir come detto prima ovviamente uno può mettere la chiusura di metà della posizione metterlo stop in pari gestire poi sembra lì poi allora non c'è un modo giusto e un modo sbagliato per gestire questo tipo di posizioni c'è l'idea di dire io mi metto uno stop a 70 80 pip una volta la tr quello che voglio io e voglio andare a prendere un target sotto quel livello di minimo che abbiamo evidenziato divido per tre per esempio il target che ho individuato vedo se è consistente se è consistente cosa vuol dire vuol dire che se mi viene uno stop loss di 12 pip per intenderci probabilmente non è consistente la strategia non sta in piedi quel trade non lo vado a fare quindi devo andare a scegliere un tipo di strategia laddove ho quel margine di poter mettere uno stop loss di tipo di 60 di 70 di 80 pips indicativamente in modo tale da avere quel minimo di margine perché non posso pensare di essere così bravo fortunato di entrare assolutamente nel punto di massimo di minimo e che non salga nemmeno i 10 15 pips perché ovviamente questo faccio vedere una cosa interessante dato che qua parliamo davvero di indicatori molto semplici ma comunque efficace se andate su indicatori mettete atr quindi average true range è un indicatore che mi descrive proprio la volatilità storica dello strumento finanziario ad esempio tu prima hai detto volete mettere un stop loss a 100 pips per esempio che sul giornaliero giusto per far capire cosa vuol dire 100 pips sul giornaliero nel senso che ogni strumento finanziario ha la sua volatilità ma anche lo stesso strumento finanziario a volatilità diverso ovviamente in contesti diversi quindi in questo primo short sul daily l'euro dollaro si muoveva di 65 pips vedete a destra vedete a destra c'è scritto 65,7 pips quindi quello era un normale movimento dell'euro dollaro in quel contesto di volatilità in quel contesto dei mercati a gennaio su grafico giornaliero poi nel secondo short siamo saliti un po di più siamo andati verso il 77 ora dopo il picco a marzo di 112 la volatilità sta un po rientrando siamo 83 83 direi che nel lungo periodo è la media dell'euro dollaro questo per dirvi che voi potete magari anche usare un training quindi mettere un training stop pari al valore della tr e poi quando il mercato ritraccia di quel valore lì in questo caso a oggi saremmo 83 pips voi venite buttati fuori quindi se c'è un movimento di 400 pips a vostro favore un ritracciamento poi a vostro sfavore di 80 pips vuol dire che 320 pips ve li portate a casa e in più siete trend follower cioè da sere finchè la barca va lascia andare quindi finchè il prezzo va io cerco di seguirlo quando c'è un ritracciamento pari alla velocità di questo strumento finanziario uscite il vantaggio qual è che voi trovate senza dire io metto uno stop loss a questo valore arbitrario ma mette lo stop loss e poi segue il trend con il training stop proprio con un valore che il mercato mi restituisce in più se trovate ovviamente il giornaliero ci saranno a tr se trovate un quattro ore la tr più basso se trovate un minuto 15 minuto 15 minuti da tr è più basso ancora finisco per precisare quando voi volete piazzare un trade quindi cliccate su trade giusto per farvi vedere potete mettere un ordine mercato con immediato order un ordine limite o stop quando vans order però in entrambi i casi comunque volete mettere un training stop quindi ora decidiamo di comprare o vendere clicco su buy o sell decidete ovviamente prima la quantità quello è chiaro decidete se volete mettere un take profit o uno stop loss ma indipendentemente da questo se volete mettere un training stop ad esempio pari alla tr voi andate a vedere la tr la tr 83 pips qua su training stop scrivete 83 ok e poi effettuate il vostro ordine in questo caso cosa succede che quest'ordine va sul server nella dance trailer e quindi poi potete anche spegnere la piattaforma io vi consiglio comunque sempre di mettere uno stop loss per carità però il training stop poi fa muovere lo stop loss a vostro favore quindi ogni 83 pips lo il vostro stop loss si sposterà ok anzi scusate 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 con l'advance trader ogni pips il vostro tre di stop si sposterà ok però alla fine il risultato ultimo è sempre quello come ho spiegato prima quando c'è un ritracciamento pari all'ampiezza del tre di stop che avete indicato venite buttati fuori dalla posizione nel frattempo la nostra amica francesca che ci segue sempre da tanto tempo e che saluto spero che abbia passato anche un ottima pasqua dice buonasera va anche sugli indici e quindi qua ti faccio domanda per fare un altro esempio sì andiamo a fare un altro esempio volevo farti vedere solo una cosa visto che prima parlavi del quattro ore su euro dollaro e guarda che ti faccio e poi passiamo su un indice vedi guarda che hai dai da inizio aprile ai su euro dollaro stabilmente la rsi sotto il livello di 40 vedi da intorno all'inizio aprile vedi stabilmente sotto il livello di 40 poi guarda otteniamo un picco in area di 60 esattamente sul livello di 60 intorno al 14 di aprile più o meno quello era il momento vedi il 13 14 aprile era un buon momento per posizionarsi al ribasso vedi e da lì se ci fai caso il minimo è un minimo inferiore anche se c'è la classica d'oggi per chi conosce l'analisi tecnica come candela reversa quindi questo è proprio uno scortone spettacolare esatto però vedi che anche in questo caso te lo indicava dopo una fase di debolezza andiamo a vendere sulla sulla forza in un trend di tipo ribassista allora per quanto riguarda gli indici possiamo prendere un indice europeo come ad esempio il dax importante che siano prodotti liquidi no quindi il dax va bene ma possiamo anche prendere lsp 500 talvolta sugli indici vanno un attimo risettati questi livelli come abbiamo detto in precedenza quindi magari dobbiamo andare a vedere qual è quel livello laddove il l'indice risponde meglio ne approfitto sempre poi per parlare di prodotti dato che sono domande frequentemente poste quindi dato che ora ci spostiamo sull'indice ricordo che con la swiss cosa si vado a dare sia l'indice spot se volete ma anche il cfd che replica il prezzo del future quindi ad esempio il dax vedete c'è il dax che non è più in treta ma adesso è 40 sia lo spot che ho selezionato io di e 40 qua sotto che vedete in verde oppure il d e 3 40 m quando c'è la lettera vuol dire che il cfd replica il prezzo del future questo è importante perché il prezzo un po diverso la grandezza del contratto è quella come il future ok quindi se comprate uno vi state esponendo a 25 euro appunto così come il future se invece volete fare le cose più semplici che vi consiglio la semplicità paga state sullo spot quindi quello poi senza scadenza finale di e 40 in questo caso il dax e praticamente andate a selezionare voi il valore del contratto quindi se comprate un contratto vuol dire che state muovendo questo valore che vedete nel prezzo per uno quindi se volete fare come il future 25 euro punto se avete 25 se volete andarci cauti come è giusto fare scrivete 1 2 quindi quello che scrivete il valore che andrete a guadagnare o perdere per punto quindi se si parla del dax è un euro se si parla dello smith il vetico è un franco se si parla del dow jones un dollaro ok quindi in questo caso andiamo a vedere detto questo il nostro caro mito grafico giornaliero esatto qui bisogna fare una considerazione abbiamo avuto un periodo negli ultimi dieci anni di rialzi molto forti delle borse in generale tutte quindi le borse americane ma anche il dax e tutto il resto quindi abbiamo avuto delle forti fasi rialziste e dei trend particolarmente pronunciati a livello rialzista nel diciamo negli ultimi anni recentemente negli ultimi mesi come avete potuto notare questo trend rialzista si è in qualche modo indebolito per via del come dire di quello che sta avvenendo anche a livello diciamo esogeno eccetera eccetera e quindi ovviamente risulta quei trend rialzisti molto spiccati che avevamo in precedenza adesso sono meno chiari quindi magari proprio in questo periodo particolare dell'anno che è una cosa che potrebbe variare nel breve perché dovessero i mercati ritracciare in maniera molto forte probabilmente potrebbe potrebbe aprirsi uno scenario di tipo di tipo ribassiste quindi potremmo andare a individuare dei livelli per andare short quindi nello specifico sul dax in questo momento noi abbiamo il segnale di debolezza intorno alla prima decade di marzo se ci fai caso vedi che l'rsi scende inizia a scendere da metà febbraio fino alla prima decada di marzo in maniera importante quindi ci dà il segnale di debolezza con quei minimi intorno al 7 marzo 7 6 7 marzo che è il minimo di fatto assoluto qui quindi questo ci dà la prima indicazione di un trend di tipo ribassista quindi il trend è ribassista sì perché perché da inizio febbraio il mercato è sceso e lo vediamo dal grafico il mercato è stato la rsi è stato stabilmente sotto i 50 punti addirittura è sceso sotto i 30 quindi ne per venduto all'inizio di marzo dobbiamo trovare un livello per andare short ok quando andiamo short nella parte alta di questo canale che abbiamo disegnato ovvero in prossimità dei 60 qui siamo un po sfortunati perché di fatto a 60 in realtà non ci arriva ci va molto vicino ma non ci arriva però se ci facciamo caso a 60 intorno al 25 26 di marzo così a occhio che è il punto più alto dell'rsi 29 marzo esatto su quei livelli dove l'rsi se ci vai sopra probabilmente dice non possiamo fare un farmacista era intorno ai 58 quella era un buon era una buona indicazione per magari provare a impostare un tipo di operatività short ora concludiamo ragionamento ogni tanto faccio le parentesi enrico dato che può fare la precisione diciamo vedete che quando se mettete il mouse sul picco dell'rsi a destra vedete il valore che state indicando voi però se ci fate caso nella finestra dell'indicatore in alto a sinistra ora non mi sposto perché sono cambiato il valore vi viene restituito il valore puntuale di quella candela quindi 58,12 ok quindi se voi mettete il mouse sull'rsi di quel giorno lì oppure sulla candela di quel giorno lì vedete nella spazio dedicato all'indicatore in alto a sinistra oltre a esserci 14 che il valore dell'rsi che potete modificare come numero di giornate c'è scritto 58,12 quindi la chiusura di quella candela lì dell'rsi che ovviamente cambiata durante quei giornali però in chiusura quel valore è stato di 58,12 tra l'altro francesca mi stava scrivendo in chat stefano quando posso chiamarti domani pomeriggio bene 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 allora qui spieghiamo un attimo come come funziona questo tipo di strategia allora ammesso diciamo che quello era un buon punto per per individuare uno short secondo me non siamo ancora messi malissimo nel senso che se il minimo che ci interessa è quello posto a 12.500 punti circa cioè quello dell'inizio di marzo c'è una un discreto margine per poter se il trend è di tipo ribassista quindi se abbiamo ragione di fatto c'è un discreto margine quindi il mercato non è sceso tantissimo è sceso di circa un 300 400 punti quindi possiamo valutare possiamo abbassare appunto ancora quello che è il nostro target price sono circa 1600 punti l'idea di posizionarci short qualora il il dax dovesse arrivare che so 14.250 punti quindi prima giornata positiva prima candela verde importante sul dax l'ipotesi di posizionarci short ci dà la possibilità di poter avere dei rapporti rischi rendimento molto favorevoli nel senso che possiamo decidere di andare a inserire degli stop nell'ordine dei 200 300 punti magari anche anche qualcosina in più è un target più importante entrando appunto a 14.250 punti questo è un po di strato ma avete visto ho disegnato proprio mentre tu parlavi proprio le proiezioni quindi da prezzo attuale a il minimo che evidenziato tu fine all'inizio marzo sono l'11 per cento 1.640 punti invece rispetto a questo massimo che sarebbe poi il punto corretto di entrata short ma non possiamo tornare indietro nel passato purtroppo è un 5 per cento scarso di rischio quindi il rischio rendimento è 2 a 1 abbondante al nostro favore però esatto chi sta prendendo questo forse stai anche dicendo come gestiresti allora sempre è normale che se non rispettiamo la strategia la vediamo un po dopo l'ingresso short si può sempre valutare di farlo come dicevi tu è normale che ti prende un rischio in più quindi in questo caso il rischio è maggiore però il rischio rendimento ancora di 2 a 1 quindi non male lo stop loss comunque tu lo metteresti sopra questo livello o faresti altri ragionamenti? Allora ti dico la verità ti dico cosa farei io io aspetterei una bella candela piena vedi che le ultime cinque candele sei candele non hanno corpo cioè o meglio hanno corpo ma hanno un corpicino no? Quindi io vorrei... la volatetta è crollata diciamo rispetto ai picchi diciamo dei cinquecento adesso siamo a trecento quindi la volatetta è proprio uscita tanto esatto quindi trecento sono i punti che deve fare il DAX normalmente diciamo che ci aspettiamo possa fare nell'ambito della giornata quindi in buona sostanza l'idea che cos'è l'idea è aspettare quattordici mila cinquecento punti o giù di lì eh che è un qualcosa assolutamente raggiungibilissimo secondo me a livello di di strategia operativa quindi eh a quel punto qualora dovessimo arrivare intorno ai quattordici mila cinquecento punti posso tranquillamente mettermi uno stop più in alto rispetto al al livello di ingresso perché perché ho tanta strada in più da fare dal lato del target e tanta strada in meno eh con riferimento a quello che è lo stop loss quindi eh non bisogna anticipare l'ingresso se eh è vero come è vero poi sai che si dice il postino sono sempre due volte se è stato segnato un minimo a dodici mila quattrocento punti o o giù di lì eh e il trend in questo momento sembra essere tipo ribassista perché se facciamo vedere eh alla mia bimba o a tuo figlio insomma questo grafico ci dirà che sostanzialmente sta scendendo perché eh qualche tempo fa si trovava su dei livelli più elevati forse l'idea di mettersi in direzione di trend dopo una candela rialzista significativa secondo me può essere una buona idea quindi cosa farei io? Aspetterei quattordici mila e cinque o giù di lì normalmente una candela verde importante e magari aspettare quella del giorno dopo che potrebbe essere una candela di inversione una shooting star e poi poi si possono mettere mille cose no? Eh insieme quindi non è che bisogna avere gli occhi così è arrivato a sessanta mi metto short non è arrivato non non mi metto short quindi diciamo avere quel minimo di flessibilità per poter impostare un tipo di strategia di questo di questo tipo quindi io quello che farei aspetterei la classica figura classica diciamo eh figura di inversione nel caso in cui eh dovessimo arrivare intorno a quattordici mila e cinquecento sì eh Valerio dice in chat risorterei anche sotto quel minimo recente penso dici questo potrebbe potrebbe avere senso perché comunque il rischio rendimento è sempre dalla tua parte invece Francesca chiede da prima Enrico quindi ritorniamo sul discorso time frame se vale solo per il giornaliero quel discorso time frame è molto interessante quindi vorrei comunque affrontarlo certo certo allora il time frame eh giornaliero più si scende di time frame più eh questo tipo di strategia è eh diciamo meno meno efficace ecco qui ti voglio ecco questo grafico che mi stai facendo vedere è molto interessante perché ti voglio far vedere una cosa eh ti ricordi che abbiamo detto all'inizio del webinar che se l'RSI rimane tra 40 e 60 vuol dire che il trend non è definito noi non siamo obbligati a operare per forza se tu guardi questo grafico sostanzialmente eh questo è un grafico orario dal sette più o meno a parte qualche piccolo eh picco eh il il nostro la nostra linea dell'RSI rimane all'interno di questo range tra 40 e 60 ok o comunque ci esce per periodi di tempo molto molto ridotti e non e non particolarmente eh rilevanti quindi questo è il classico trend che potremmo definire laterale quindi questo è il classico caso laddove io sconsiglio di andare a fare dell'operatività quindi sul grafico orario certo io potrei dirvi a guarda lì tra quattordici e diciannove tocca i 60 mi metto short da questi livelli ecco normalmente io questo tipo di operatività non lo vado a fare dato che si muove tra supporto resistenza se sono con l'RSI sopra 60 e short vuol dire che sto shortando a un prezzo relativamente alto rispetto alla è vero quindi adesso proprio per il nostro guardi nel dax è lì con l'RSI a 60 proprio perfetto perché c'era il webinar quindi tendenzialmente questo potrebbe essere un segnale short da questo punto di vista tendenzialmente sì però in realtà la strategia che abbiamo visto ci dice guarda che eh deve stare stabilmente sotto quel livello di di 40 per esserci un segnale short eh diciamo interessante perché ti dico questo perché se ci fai caso i minimi eh laddove intorno al livello di 40 esatto vedi che sono superiori a eh i minimi precedenti quindi esatto vedi quei minimi lì sono più bassi rispetto a eh i minimi gli altri minimi che hai evidenziato più recenti quindi noi ci mettiamo short va bene lo possiamo fare tranquillamente l'RSI sta invertendo tutto quello che vuoi però abbiamo dei minimi via via crescenti quindi in realtà questo trend ribassista non è così ribassista perché gli ultimi minimi hanno retto e anzi non siamo arrivati a bucare quei nuovi minimi quindi l'idea è voglio operare per forza lo posso fare tranquillamente non c'è nessun problema dall'altro lato eh il rischio evidentemente c'è eh ed è un rischio maggiore quindi qui si hanno molti più falsi segnali se dipende poi dal trader nel senso che se uno è disposto ad avere il tempo di stare continuamente davanti alla piattaforma benissimo se ha la possibilità di poter eh sopportare un numero di stop superiori allora tranquillamente si può mettere short da questi livelli probabilmente non sbaglia probabilmente fino a 14.040 punti ci va eh e quindi può provare a eh cercare di prendere 130 punti di dax il problema qual è che se tu hai 130 punti di dax ti si riduce lo stop loss vuoi avere dei rapporti di screndimento favorevoli di mettere uno stop loss a 40 punti 30 40 50 punti al massimo quindi di stare davanti a piattaforma non è richiesto nel senso se io adesso decido di andare short metto il mio stop loss o trading o entrambi e poi mettete profit eccetera la mia condizione si andrà a realizzare ecco quindi quello anche perché sul daily cioè anche sull'orario non è che abbiamo comunque tanti segnali nel senso è una certo però vedi però poi andresti a mettere lo stop loss intorno a 14.210 punti che è un è un livello è un livello che si è appena sopra quei massimi ma sai che può essere tranquillamente spazzolato certo chi vuole operare di più può può tranquillamente fare questo tipo di operatività ovviamente avendo sempre un money management corretto su questo tipo di strategia a me diciamo piace un po di meno mi piace più l'operatività dove tieni la posizione per qualche giorno magari cinque sei dieci giorni e se sei nella direzione corretta ottieni dei buoni risultati in che modo considerate calendario economico oltre all'analisi dell'rsi per esempio sapendo che la fed avrà la prossima riunione all'inizio maggio allora io mi esprimo poi sentiamo anche l'opinione di enrico nel senso sempre a vedere calendario economico rischi di non pensare più trade è normale che eventi come quelli della fed sono importanti ecco non fa in parole dati magari sull'intrazione quelli della fed eccetera però nel senso io dico se avessere se avete la vostra idea direzionale in più l'analisi tecnica ve lo conferma quindi il prezzo vi conferma la vostra età di fondo eseguite il trade poi è normale che la notizia può essere a vostro favore che a vostro sfavore quindi nel lungo periodo dovrebbe influire il 50 per cento normale che quello che è fondamentale e abbiamo fatto una parte importante di questo webinar già proprio all'inizio del webinar in cui ha iniziato a parlare nel discorso di rischio di rendimento di stop loss eventualmente anche il trailing quindi questo fa parte ovviamente del mestiere in più comunque se voi partirete da una vostra idea di fondo nel senso secondo me il dollaro dovrebbe ancora apprezzarsi proprio a seguito dalla politica della federa riserva in più beccate un segnale shock sul loro dollaro quindi apprezzamento di dollaro allora lì prima dopo la notizia potete tranquillamente agire e ormai che dipende dal time frame se siete sul daily c'è un ampio spazio per far respirare il prezzo se siete sul minuto ovviamente di non fate tre di intraday su quella notizia di questo chiaro qual è la tua opinione su questo enrico allora su questo questa strategia non considera diciamo quelli che sono gli eventi macroeconomici quello che io ho notato però nel tempo è questo che spesso in concomitanza di determinati eventi che possono essere la linea della fed lo speech da parte del governatore eccetera eccetera il mercato tende a muoversi come è normale che sia in maniera rilevante ma si ferma proprio su questi livelli che abbiamo indicato quindi può succedere che ad esempio voglio mettermi long di euro dollaro parla powell alla garda indifferente qualcuno sostanzialmente il mercato si muove in maniera forte e pensa te proprio durante lo speech o in concomitanza con lo speech sul grafico giornaliero le rsi per esempio mi arriva sul livello di 40 ecco quello io se voglio andare long quello è un ottimo segnale per posizionarmi long quindi sfrutto il movimento che mi dà la banca centrale perché mi porta le rsi su quei livelli a quel punto mi metto nella direzione nella quale mi volevo mettere a prescindere da quello che dice il governatore di uno dell'altra banca centrale perfetto chiaro ottimo volete vedere stai dicendo qualcosa vuole vedere qualcosa altro prima di chiudere se vuoi vedere un altro indice lo vediamo volentieri per esempio gli indici americani durante la fase di di salita proprio è bello secondo me guardare a vedere per esempio la sp500 o un indice americano a prescindere esatto in tutta quella che è stata la forte fase rialzista diciamo degli ultimi degli ultimi però non cambia niente tanto chiamone facciamo anche facciamo un piccolo profitto poi per fare un piccolo paragone diversamente andiamo allora iniziamo con la sp500 vediamo questo da esatto allora vedi come detto nell'ultimo periodo che cosa è successo nell'ultimo periodo abbiamo avuto una fase sostanzialmente di lateralità dove non abbiamo avuto delle indicazioni particolarmente interessanti è bello vedere quando un mercato è in trend quindi ci dà un trend particolarmente rialzista qui diciamo un trade che io avrei impostato qual è guarda torna torna sul grafico che stavamo vedendo ecco guarda intorno alla fine dell'anno precedente guarda a prima dell'inizio di dicembre vedi abbiamo questo picco di rialzo qui abbiamo ancora un trend rialzista abbiamo un picco di rialzo intorno all'inizio di novembre per quanto riguarda l'RSI se torni indietro lo vedi bene è esatto guarda inizio di novembre ecco qua vedi qui abbiamo un picco dell'RSI il mercato palesemente in fase rialzista ok poi abbiamo un ritracciamento dell'RSI intorno al primo di dicembre proprio sul livello di 40 guarda adesso spostati no no primo dicembre eccolo lì lì proprio sul livello di 40 qual è un punto di minimo interessante dal quale si poteva andare long se ci fai caso qui vediamo proprio quel quella casistica di cui nella quale sul grafico vediamo un ulteriore nuovo massimo ok guardalo lì vedi sul grafico vediamo un long da questi livelli esatto da quali da quali si precedenti vediamo un ulteriore nuovo massimo nonostante l'RSI di fatto un nuovo massimo non lo faccia quindi il mercato va su ma l'RSI non non sale in maniera così però i prezzi vanno a fare un nuovo massimo ecco questo è molto è molto interessante come come indicazione qui poi cosa cambia cambia un pochettino il mood del mercato perché da l'inizio di diciamo dalla metà di gennaio l'RSI rompe i 40 quindi inizia ad andare sotto intorno alla metà di gennaio poi non recupera più sostanzialmente rimane per un discreto periodo sotto i 50 fa qualche qualche buco poi otteniamo un livello diciamo la prima volta che rompe i 60 intorno alla fine di marzo vedi ecco qui ovviamente non si può qui c'era il rischio di prendere uno stop loss probabilmente non l'avremmo preso se ci fossimo messi di short diciamo qualche candela prima perché avremmo avuto diverso margine perché perché il nostro target price deve essere messo intorno a 4100 punti quindi se fossimo entrati anche a 4500 facciamo un esempio pratico qui si doveva entrare guarda la prima volta che tocca sui 60 sostanzialmente ecco noi avremmo dovuto entrare sostanzialmente sui 4450 punti ok quindi più o meno su quei livelli di 4550 punti e mettere un target price intorno ai 4100 punti se qui forse per per qualche punto l'avremmo preso uno stop loss però diciamo che come tipo di strategia ribassista poteva essere un'opzione interessante insomma questa qui quello che ci interessa è un nuovo la tierra mantenuto sul 91 come punti e 4550 e 35 quindi non l'avrebbe preso sì avremmo potuto fare esatto quel tipo e la cosa interessante che il nostro target è probabilmente questo target potrebbe essere raggiunto eh è sotto i nostri 4000 intorno ai 4100 punti che è un nuovo minimo quindi questo è un tipo di di operazione che possiamo fare se l'RSI dovesse tornare in un intorno di 55 57 quindi vicino ai 60 eh avremmo dei rapporti rischi rendimento favorevoli metteremmo lo stop sopra i massimi evidenziati intorno al 29 marzo e il target price sotto i minimi precedenti questo è un tipo di operatività che possiamo fare sulla sull'SP500 che stiamo vedendo in questo momento tornando sulla piattaforma quindi piattaforme forex nella versione live login vedete al volo dovevo vedere per francesca il quindi us 500 lo standard un po 500 us 30 e il dao 30 in asta accetta qua quindi qua ovviamente il discorso deve essere quasi identico perché i movimenti dei due indici vedete faccio veloce us 30 us 500 normale che sono identici normale che la colorazione quasi questo è più bello però stefano perché guarda sull's p 5 sul 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 dao la cosa che vediamo è che l'indice è più debole lo vedi che soprattutto da dicembre guarda che picchi di per venduto che ci sono sono diversi picchi diversi minimi via via ribassisti quindi in realtà secondo me nonostante l'rsi comunque non scenda così tanto abbiamo via via minimi ribassisti sul sul grafico quindi anche in questo caso non abbiamo segnali particolarmente confortanti sul sul dao jones e anzi secondo me questo indice è più debole rispetto a l's p 500 tra l'altro stiamo tornando nuovamente in prossimità di quel livello di 60 perché siamo probabilmente in questo momento a 56 57 quindi la nostra candela verde che era quella che aspettavamo prima il candelone verde lo stiamo avendo se domani ci fosse una candela verde con poca forza e non dovesse aprire con particolare diciamo vigoria potremmo tranquillamente metterci short da da questi pochi punti più in alto rispetto a quello che batte il mercato in questo momento ecco una cosa ci tengo a dire noi non siamo indovini non siamo farmacisti quindi punto più punto meno su un'operatività multi dei diciamo non è che cambi molto quindi l'idea è in quell'area di prezzo mi posso mettere short mette uno stop loss appena sopra i massimi precedenti se il trend ribassista farà come sta facendo perché li vedi che i massimi sono via via decrescenti probabilmente non andrà a fare i massimi inteso e 123 esatto quei tre massimi sono via via decrescenti quindi di fatto non dovrebbe andare a superare quel quel livello se non dovesse superare quel livello il trend sarebbe confermato con un trend ribassista quindi attenderemo un minimo ulteriore più basso infatti se vai a vedere i minimi sono via via decrescenti quindi la strategia qual è mi metto short più o meno su questi livelli stop molto stretto target sotto i 32 mila cento punti se ci vedo ancora abbastanza bene 32 mila e sette a me piace qua rsi sopra 60 in versione dei finaci quasi anche qua se vediamo nei finaci rossa si può shortare però questo solo per le mani delle finaci questo potrebbe essere un altro tema di un guai ecco una cosa importante c'è quando si fa trading si mettono assieme un po tutti i pezzi del puzzle c'è io adesso ho fatto vedere questa cosa dell'rsi tu giustamente mi hai fatto vedere quella del della kinashi eccetera eccetera ci sono mille cose si mettono assieme i pezzi del puzzle e poi io normalmente da un voto cioè mi piaccia non mi piace quello che sto facendo questo tipo di trade short è un qualcosa che ha senso secondo me a prescindere la strategia che si possa utilizzare quando abbiamo più confermi su più tecniche che normalmente danno rispondono abbastanza bene il trade secondo me si può impostare tranquillamente assolutamente assolutamente molto molto bello approfitterei per chiedervi ancora se avete una domanda al massimo se no ricordatevi di seguirci sui nostri social di aprire un conto con noi se non fate chiamatici non c'è nessun motivo di farlo c'è anche la possibilità del nostro sito di fronte alla situazione attuale in Ucraina l'unica risposta alla solidarietà quindi dal nostro sito poi si può andare a donare alla calcio rossa magari profitto di una giornata investitelo per fare del bene altri spunti per chiudere Enrico no questo era diciamo quello che in questa ora quindi fantastico e dai secondo me questo è un tipo di operatività che è facile da replicare anche per chi non è un super professionista chi magari si sta approcciando un tipo di operatività abbastanza semplice e che ti fa vedere diciamo questo indicatore con degli occhi diversi ed è io penso qualcosa da replicabile fin da subito non ci sono formule matematiche cose pazzesche o sono cose semplici che però ti cercano di individuare quello che è il trend del momento ultima domanda di Francesca che dice sei sicuro che il trend è short la risposta è non devi essere troppo sicuro perché se sei sicuro vuol dire che ci metti tutto il conto trading quindi questo è un errore comune quindi mi raccomando quando si fa trading bisogna sempre avere una previsione sul futuro le previsioni possono essere giuste sbagliate quel discorso che ha fatto Enrico all'inizio del webinar è importante quindi il discorso di gestione del rischio di quante volte si ripete un fatto nel corso della storia quindi si fa trading più che altro sulla statistica non sulla certezza o sulla sicurezza tra l'altro non approfitto per dire che questo webinar è stato registrato spero di controllare questo tasto si lo confermo quindi sarà a disposizione sul nostro canale sui scuola a partire da domani però quello che ha fatto vedere Enrico poi interessante soprattutto sul dao perché c'è stata questa serie di massimi decrescenti quindi la prima cosa che insegna l'analisi tecnica è il trend quindi se massimi sono decrescenti il trend è ribassista se minimi sono crescenti il trend è rialzista però l'analisi tecnica anche non è una scienza esatta quindi mi raccomando dal gestione del rischio diventa sempre fondamentale abbiamo fatto vedere anche la piattaforma come metà stop loss e profite eventualmente anche il treni stop e anche il fatto che fare trading sui cfd piuttosto che il future costruisco potete fare trading anche sul future sugli etf soluzioni su quello che volete trovato lo strumento che volete questi sono i cfd cfd hanno quel vantaggio che decidete voi il valore del contratto quindi diciamo che sono contratti sempre più piccoli rispetto al future in più c'è la possibilità di andare long la possibilità di andare short vi ricordo che su questa piattaforma offriamo anche i cfd su azioni quindi se volete fare trading long oppure short su tesla su apple su nesle sulle altre azioni lo potete fare posso rispondere a francesca volevo aggiungere una cosa che secondo me è importante allora se dovesse rompere quella quel massimo la dove andiamo a mettere lo stop loss sostanzialmente si sarebbe invertito quello che è il trend di fondo quindi questo che cosa vuol dire vuol dire che a quel punto il movimento è di tipo rialzista non ci interessa più andare a posizionarci short prendiamo il nostro stop loss pace amen succede ed è normale prendere gli stop loss a quel punto dobbiamo attendere che il mercato perché a quel punto avrà superato sicuramente i 60 di rsi attenderemo che il mercato ritorni in un'area dei 40 allora l'individueremo un livello per andare long e quel livello per andare long ipoteticamente potrebbe essere perché c'è un po di esperienza occhi intorno a 33 mila 200 punti o giù di lì quello potrebbe essere un un livello sul quale potremmo a quel punto riposizionarci al rialzo quindi seguiamo il mercato non ci facciamo troppe domande e cerchiamo di di avere diciamo una strategia solida con stop stretti e target ampi si era la fine del tre del messaggio del trader è quello di fare più eseguiti non facciamoci condizionare troppo da un trade perché ho visto tanti casi dove il focus un singolo trade è stato esagerato poi da lì si iniziano fare le martingale quindi mi raccomando ogni trade fa stare a sé giustamente come ha detto erico se viene più dato quel livello eventualmente viene preso il mio stop cambia il mio outlook e pesaro al prossimo eseguito certo grazie grazie stefano grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e alla prossima grazie a tutti buona serata buon trading ovviamente continuiamo la nostra serie di webinar con enrico swisspot.com è il nostro sito in atto a destra poi potete selezionare le lingue che volete se volete vedere anche il sito in cinese comunque molto bello se andate su educazione trovate poi i prossimi webinar quindi quando siete sul sito italiano tendenzialmente trovate i webinar italiani a meno che non siano altri webinar in italiano previsti quindi vengono messi però per dirvi se volete vedere anche così in inglese basta che cliccate qua sopra e poi andate a iscrivervi in più in inglese abbiamo anche il sito swisspot.com slash blog dove ci sono i nostri articoli sul trading anche a partire dalle basi quindi c'è davvero di tutto di più copriamo dici lingue cerchiamo di farlo bene sull'italiano anche stiamo facendo diversi soprattutto poco con enrico le registrazioni precedenti sono sempre sul nostro canale swisspot lo trovate facilmente su youtube grazie ancora grazie enrico per questa strategia davvero molto interessante ricordo che abbiamo fatto un guardia proprio su vostra richiesta per parlare ci avete chiesto nel guardia precedente di parlare di strategie quindi nel caso abbiate considerazioni su un prossimo webinar scrivetemi nelle prossime 24 ore così poi veda di sentire enrico e cerchiamo di capire che voglia fare il mese prossimo stevano punto gianchi chioccia swisspot.com se avete bisogno di informazioni sui nostri servizi comunque contattateci ovviamente grazie buona serata e buon trading buona serata a tutti